Un cenno appena, scegli chi se ne va, chi non rimane, oltre l'ora di cena e si congeda, con l'umiltà discreta che non parla. Un cenno appena con la mano, il gesto stabilito da sempre. E inconfessato. Così fu, o così almeno lo rammento, lui che s'alzò guardando giù la porta, sorridendo gentile come in sogno, lasciando quella stanza e una città che nemmeno s'accorse del suo viso. Così. Così.